è un thriller storico ambientato negli anni 30 in italia nell'italia del fascismo c'è un omicidio naturalmente c'è un'indagine doppia tra l'altro scritta da due autori franco forte che qua vincenzo vizzini tra l'altro tu sei il capo dei gialli mondadori tra l'altro quindi mastichi gialli tutti i giorni qui hai voluto divertirti anche raccontare una storia anche poco nota con una suggestione che parte come dice il titolo dall'uranio di mussolini dalla possibilità di creare una bomba atomica italiana sì ecco partiamo da una suggestione ma questa possibilità che ricco fermi potesse dare a mussolini una bomba atomica per farlo ha bisogno dell'uranio l'uranio si poteva prendere in africa in un piccolo posto in chad allora l'idea che mussolini abbia messo in piedi poi la possibilità di andare in africa per prendere l'uranio per fare questo manda un suo uomo in sicilia a preparare un avvioporto e viene ucciso l'indagine è intorno a questo parte da lì e indagano due persone una del nord che sembra essere il tuo alter ego si chiama durante una del sud di ragusa che si chiama ibla come nome antico di ragusa sì allora io sono milanese il mio coautore vincenzo vicine di ragusa abbiamo fatto questo giochino per cui i nostri due protagonisti sono uno funzionario fascista dei servizi segreti fascisti che viene inviato appunto da mussolini a indagare su questo omicidio e poi vincenzo iba che è un commissario di ragusa che invece deve indagare senza sapere nulla di quello che potrebbe esserci dietro durante dal nord scopre un mondo lontanissimo dalla milano all'avanguardia in quel periodo ma davvero c'è le sole nelle indagini si studiavano le impronte digitali era stato inventato il telefono cellulare da un ingegnere in quel periodo perché questo telefonava andando in giro in macchina noi lo mettiamo tutte le indicazioni nel libro e sono vere dall'altra parte c'era gusa 1134 dove davvero non c'era nulla non c'era niente abbiamo cercato di ricostruire questo mondo con le suggestioni del milanese che arriva in un mondo veramente alieno uranio di mussolini giallo storico di franco forte vincenzo vizzini pubblicato da mondadori grazie grazie